Buongiorno, questa è la rassegna stampa in breve di video 33. Oggi è domenica 17 maggio, cielo sereno su tutto il territorio provinciale. In regia abbiamo Massimo Moro, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Iniziamo dal Corriere dell'Alto Adige, Spagnoli, referendum su Benco, voto postale, apertura agli ecosociali, la replica. Facciamo una vera consultazione. Nella fotonotizia il fatto di cronaca a Oltrisarco, i pompieri salvano una mamma e i suoi due bambini, un incendio appunto in un appartamento di Oltrisarco. Poi ancora cronaca, società Biopower, l'amministratore sotto processo per l'inquinamento in Sardegna e azioni Sparcas e sconfitto il CTCU. Passiamo al quotidiano Alto Adige, identica apertura. Spagnoli, retromarcia su Benco, promette un referendum e scatta una foto con Pacer. Poi continua l'indagine legata a Mitter Hurtzner, il broker di Velturno. Il giallo delle valigie stracolme di denaro fa tappa in Svizzera. Nelle cronache, anche qui, rogo in casa, salvata madre con due figli e da Bolzano, centro disabili senza l'acqua calda, nella struttura di Via Fago, ancora disagi, il direttore scusate. Passiamo al settimanale Zet che troviamo in edicola al posto del Dolomiten. Anche qui Conrad fatti vivo, le dichiarazioni di Claudia Ploner, ex compagna di Conrad Mitter Hurtzner, l'uomo che avrebbe truffato diverse persone e sarebbe in fuga. E poi c'è anche un'inchiesta sulle droghe leggere, inchiesta sull'uso di sostanze stupefacenti nella città del Passirio. Qui il consumo di cannabis sarebbe molto diffuso. Bene, con questo ho terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica.